Omicidio ad Eboli. Un uomo di 47 anni, Vincenzo Santimone, ha ucciso ieri sera il padre di 76 anni, Riccardo Sgozzandolo. L'assassinio è avvenuto all'interno della loro abitazione in via Bartolo Longo, al Rione della Pace. La vittima è stata colpita alla gola con un coltello da cucina, per motivi ancora da chiarire, al termine di una lite. L'anziano, come riporta l'edizione online del quotidiano Il Mattino, ha percorso qualche metro, finendo violentamente sul pavimento vicino al bagno. È stato ritrovato in una pozza di sangue. Vincenzo Santimone, il quale avrebbe seri problemi psichici, dopo il delitto ha chiamato il fratello. Il 47enne è stato tratto in arresto. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, allertati da alcuni residenti impauriti dalle urla provenienti dall'abitazione dell'uomo. In casa c'era anche l'anziana madre dell'omicida, allettata di impreda alla disperazione. Nonostante i vari tentativi fatti dai sanitari per rianimare Riccardo Santimone, per quest'ultimo non c'è stato niente da fare. Il 47enne è stato trasferito nel carcere di Forni a Salerno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto indagano i militari dell'arma della compagnia di Eboli, i quali hanno avvisato il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Salerno, che ha disposto l'esame esterno sulla salma che verrà effettuato nelle prossime ore dal medico legale nella camera mortuaria dell'ospedale Maria Santissima Adolorata per scoprire ulteriori dettagli su questo grave fatto di cronaca. Sconcerto nel quartiere ebulitano per questo fatto di sangue. Un vero e proprio dramma che ha distrutto una famiglia e segnato un quartiere dove tutti conoscevano ed erano affezionati alla famiglia Santimone. La vittima era un gommista in pensione e quotidianamente si prendeva cura sia della moglie da tempo allettata che del figlio che, come detto, pare soffrisse di problemi psichici.